buonasera a tutti bentornati allora non sono solo non vi preoccupate dedichiamo questi pochi secondi giusto ai saluti così vi teniamo compagnia ciao mentre arrivano gli altri così invece di lasciare lo spazio avuto ci facciamo due chiacchiere sì caso russi non ci posso credere ragazzi qua ogni promessa è debito noi ci siamo lungarelli ma non scordarelli nel senso che quello che vi diciamo poi prima o poi lo si fa con le giuste tempissi che poi vedete che purtroppo e dico purtroppo ci sono una serie di accadimenti di eventi di aggiornamenti di nuovi casi quindi magari portiamo quelli e ci mettiamo un pochino più di tempo per portare casi un po più grossi soprattutto quelli un po complicati da sviscerare quindi già abbiamo fatto una sorta di calendario che è questo qui di davanti russi per questa sera poi ci sarà il caso di marta russo che ci avete chiesto per mesi si può dire e lo faremo dopo pasqua e quindi bene quindi c'è la meraviglia ma se volete poi richiedere altri casi noi pian piano ce li andiamo a guardare ovviamente sapete qual è la linea di craindorso e ne cercheremo di essere più oggettivi possibili per ogni caso non solo su questo è un caso molto delicato e capirete perché in in questa sede per un motivo iniziamo proprio da capo cioè come se la vicenda di david rossi fosse avvenuta qualche mese fa per ricostruire un attimino tutti gli eventi soprattutto quelli che riguardano l'iter giudiziario e quindi speriamo di essere più chiari esaustivi fateci delle domande come sempre la premessa è doverosa di atti nel senso c'è poco perché per riassumere già il tutto è stato archiviato più e più volte e vedremo in che modo quindi diciamo sono quelli gli d'indagine sono stati un po controversi ecco perché io parlo di una storia controversa tanto è vero ad oggi ci troviamo con una seconda inchiesta di con c'è parlamentare e vi spiegheremo bene anche quello che cosa vuol dire che cosa è successo quindi se voi conoscete il caso magari vi conservate qualche domanda cercheremo di rispondere come al solito tutte le domande iniziamo tra qualche secondo quindi facciamo un pochino di di chiacchiere tra contenti che farete marta russo sì la faremo anche se un caso un po vecchiotto però lo vogliamo analizzare appunto perché qui forse l'unica sede e mi sento di dire che l'unica sede dove andiamo a trattare i casi italiani in una maniera un pochino più dettagliata non sempre abbiamo gli atti però anche quando non abbiamo degli atti magari dei processi cerchiamo di andare a studiare quello che è emerso da libri documenti ufficiali quindi comunque la valutazione che facciamo tecnica pertinente o cerchiamo di renderla tale ovviamente se i casi sono più vecchi siamo agevolati perché c'è tanta documentazione anche non avendo accesso a tutti i fascicoli di indagini ma almeno abbiamo le sentenze sulle quali basarci che sono atti ufficiali e non diciamo congetture quindi almeno quello abbiamo il buon senso il criterio di andarcelo a studiare ed ecco perché ci mettiamo un pochino di tempo e stando in italia è complicato un pochino andare a mettere il dito nella piaga come i casi che vi portiamo spesso no anche quello di stasera vedrete con caso molto molto delicato ci sono anche degli aggiornamenti in merito a delle vicende un pochino parallele rispetto alla vicenda e quindi speriamo che possa interessare nonostante sia un caso particolare e vi anticipo già che possiamo avere tutte le idee di questo mondo perché è un open case cioè ancora aperto si può dire cioè le strade possono essere molteplici ognuno magari si farà una convinzione noi vi metteremo sul banco tutti gli elementi quelli a favore di una determinata ipotesi a sfavore di un'altra viceversa e così via perché se avete seguito il caso avete visto che ci sono state tante indagini imputazioni differenti e quindi tra pochi secondi iniziamo quindi se siete d'accordo mando un minuto un minuto di sigla e poi introduciamo il caso evviva vedo i commenti sì perché mi ricordo settimana scorsa avevo avuto qualche problema quindi ci rivediamo davvero tra qualche secondo non ve ne andate qui eccoci voilà ridistribuiti allora approfitto subito di questo commento ciao a tutti non conosco benissimo il caso aspetto un riassunto allora è la prima volta che su crime doors ci occupiamo del caso di davide rossi quindi non faremo un riassunto ma racconteremo proprio da capo quella che è la storia che affonda le sue radici nel 2013 oramai quindi siamo oltre i dieci anni quindi non si tratterà di un solo riassunto ma andremo punto punto dall'inizio della vicenda perché altrimenti se arriviamo già alle conclusioni difficilmente si può seguire il caso con tutte queste criticità che incontreremo quindi ve lo spieghiamo da capo e se non capite magari ci fermate vi rispieghiamo dei passaggi che potremmo saltare magari qualcosina perché è un pochino compliché allora quindi è già avanti io tra l'altro quando guglielmo è interessato e conosce il caso mi preoccupo mi sento in esame guglielmo se ci sei un dice bellissimo parliamo di questo è sempre sotto esame perché lui tira fuori le domande che non si sa da dove le tira fuori è molto meticoloso quindi se conosce un caso è finita guglielmo dove sei batti un colpo stiamo parlando di te comunque ben trovati anch'io volevo salutarvi oggi parliamo di questo caso molto molto particolare sapete no che vabbè anticipiamo no così stiamo un attimino un attimino più computi nella nell'atteggiamento no sapete che inizierà il processo a carico di antonino monteleone del sindaco di siena e credo dell'autore delle iene per le dichiarazioni fatte e proprio attraverso il servizio delle iene alla fine il gip ha deciso di mandarli a processo per diffamazione aggravata quindi insomma è una situazione molto delicata perché come sapete viene convolta la magistratura e la magistratura insomma non è come la politica ecco quindi non che siamo preoccupati eh noi ci limiteremo a raccontare i fatti a fare le considerazioni sul caso anche perché una verità eh al di là di ogni ragione un dubbio purtroppo non c'è cioè nel senso che eh allo stato fattuale rimane un suicidio però c'è in corso ancora un'inchiesta parlamentare mi pare che è ancora in corso l'inchiesta parlamentare no? Sì perché è stata istituita nel maggio duemilaventitré e adesso diciamo in maniera fattiva si andrà avanti la differenza della prima commissione parlamentare che fu nel duemila e ventuno e che stavolta è monocamerale quindi ci saranno solamente deputati da quel che ho capito invece prima era bicamerale e avevano comunque tratto degli elementi importanti in realtà ora vi dico anche un attimino lo scenario noi in questa volta non abbiamo avuto molto modo di confrontarci anche perché il caso è complicato e potrebbe portare a diversi scenari ancora quindi anche noi non abbiamo una conclusione definitiva questo è quello che ho percepito da Monica e Lucia quindi stasera tra virgolette potremmo illuminarci proprio in diretta no? poi nelle ultime giornate di studio ovviamente non ho potuto fare a meno di mettere in rilievo alcuni elementi che vi racconteremo no? che sono stati poi le valutazioni e gli accertamenti che sono stati fatti dovuti a queste inchieste però iniziamo da capo così ci seguite anche voi con il ragionamento siamo nel 2013 e purtroppo il protagonista di questa triste vicenda è David Rossi e già poi intorno a lui c'è uno scenario molto particolare che sarà anche molto suggestivo per la vicenda è un personaggio tra virgolette interessante da questo punto di vista e su Davide Rossi purtroppo sono state dette tantissime cose no? in questi anni noi ci teniamo a fare un profilo quanto più aggiuntivo possibile senza puntare il dito né contro di lui che ovviamente è vittima di questo episodio né contro tutta una serie di personaggi che man mano vi illustreremo durante questa serata quindi che cosa succede nel 6 marzo del 2013? allora vi dico direttamente l'evento cru questo Davide Rossi si toglie la vita o almeno quelli sono gli elementi e le evidenze che abbiamo oggi cioè che quest'uomo che tra poco vi raccontiamo chi è decide secondo la procura di Siena di lanciarsi dalla finestra del proprio ufficio sito al terzo piano di un luogo molto molto importante per Siena perché ci troviamo a Siena per l'appunto che è Rocca Salimbeni che è la sede principale dei Monte dei Paschi di Siena che ruolo aveva quest'uomo all'interno di questa banca? chi non lo sapesse è una banca Monte dei Paschi di Siena era il capo della comunicazione aveva avuto già una lunga carriera per la città di Siena con questa posizione cioè era giornalista addetto alla comunicazione prima del comune quindi nel periodo anche d'oro di un certo sindaco e poi dei Monte dei Paschi di Siena quindi era un uomo conosciutissimo in città e con una buona reputazione buonissima reputazione conosceva tantissime persone di rilevo innanzitutto perché aveva avuto a che fare proprio appunto abbiamo detto con il comune poi Monte dei Paschi di Siena nel periodo in cui c'è stato Davide Rossi aveva diciamo un certo prestigio quando a livello anche internazionale le banche stavano andando in fallimento per una serie di finanziamenti di mutui, prestiti, azioni e quant'altro un pochino fallimentare Monte dei Paschi di Siena ancora diciamo manteneva una buona posizione quindi diciamo ha lavorato nei periodi d'oro e si è accostato a personaggi di spicco che sono stati influenti dal punto di vista politico ed economico per la città di Siena quindi parlare di Davide Rossi era parlare di un uomo molto conosciuto molto famoso ecco perché poi diciamo la sua morte ha addessato parecchio scalpore all'interno della città e ha smosso ed evidentemente agitato un pochino gli animi perché come vedremo tra pochissimo ci sono stati un po' di comportamenti magari strani un po' di agitazioni diciamo vicende parallele a questo caso che ancora oggi diciamo ci riportano nuovamente su quella pista che sono passati ormai undici anni che cosa accade nei primi anni giusto per fare un riassunto si fa prima un'indagine per istigazione al suicidio poi un'altra per il suicidio direttamente viene archiviata cioè tutte e due vengono archiviate dopo un po' però ovviamente la famiglia che non si arrende a questo tipo di risultanza si oppone e cerca di far riaprire il caso in tutti i modi e attraverso una serie di accertamenti che dopo andiamo a vedere in dettaglio riesce a ritrovare diciamo delle incongruenze su quelle che erano stati i punti fondamentali di questa archiviazione al suicidio tant'è che si arriva a una commissione di inchiesta parlamentare che cos'è? in pratica vengono mosse queste commissioni di inchiesta parlamentare fondamentalmente per due motivi la prima è proprio un'accusa bella diretta cioè come se la magistratura non avesse fatto il massimo per andare a fondo a questa vicenda e quindi nella commissione di inchiesta parlamentare si va a valutare proprio quello che è l'operato dei magistrati però c'è da dire se mi posso permettere di fare una valutazione se è vero che da una parte sono stati sollevati diversi dubbi sull'operato di questi pubblici ministeri da parte proprio delle forze dell'ordine se è vero che a volte la televisione strumentalizza quanto accade è anche vero che dall'altra parte questo interesse politico sia nella prima inchiesta che nella seconda viene detto dal fatto che laddove finalmente si può attaccare la famosa casta dei magistrati i politici di turno si ci buttano diciamo a pesce lo dico perché uno dei problemi della prima inchiesta è stato dato dal fatto che comunque fu Renzi uno dei maggiori promotori insieme al Movimento 5 Stelle di questa commissione di inchiesta e uno dei pubblici ministeri che era sotto accusa era in realtà colui che aveva diciamo indagato sulla posizione della famiglia mi pare di Renzi l'inchiesta Open quindi insomma diciamo che in mezzo ci sta la famiglia di David Rossi che cerca giustizia ma tutto questo caos di denunce contro denunce inchieste in verità ha molto questa è una mia opinione no? e ha molto un sapore di rivalza dall'una e dall'altra parte più che la ricerca di verità per la morte di David Rossi e anche per questo insomma una delle prime poi è andata a finire come è andata a finire adesso se ne è aperta un'altra e vedremo però c'è da dire che allo stato dei fatti questi tre pubblici ministeri di cui adesso vi racconteranno insomma quelli che sono i dubbi sul loro operato tutte le inchieste parallele fatte dalla procura di Genova e dal CSM sono state archiviate cioè questi pubblici ministeri secondo quello che è la giustizia e ne è quella ci rifacciamo hanno agito secondo legge senza dolo e senza fare nulla di grave questo è doveroso e doverosa come premessa perché anche se noi adesso vi raccontiamo qualcosa diciamo allo stato attuale quello che è l'operato dei magistrati che hanno indagato perché sono tre sulla morte di Davide Rossi è assolutamente diciamo pulita non si sta indagando in tal senso la commissione di inchieste è sempre legata al famoso suicidio però dal punto di vista legale insomma le inchieste sono state fatte sull'operato dei pubblici ministeri e sono state archiviate perché il fatto non sussiste quindi insomma questa era una premessa doverosa a mio avviso anche perché se poi magari parlando ci ritroviamo a fare un commento in più teniamo bene a mente che un giudizio sull'operato dei magistrati e anche più di uno c'è stato nel senso una fase di indagini non un giudizio non ho mai subito un processo questo diciamo teniamola a mente che anche un trampolino di lancio per agganciarci subito a quello che ha spinto verso queste ipotesi la prima diciamo ha una chiave un pochino più psicologica ed è dovuta proprio al fatto che come vi dicevo prima essendo lui l'addetto capo alla comunicazione dei Monti e dei Paschi di Siena ed avendo lavorato nel periodo più florido all'improvviso diciamo si vede una sorta di tracollo e qui entra in campo diciamo la figura dell'avvocato banchiere diciamo al quale poi si accosta David Mussali che in pratica lui che cosa fa arriva la banca non è di Siena viene da fuori e diciamo cavalca l'onda più florida fino a che non fa un investimento tra virgolette un po' sbagliato cioè l'acquisizione di una banca che è la banca Anton Veneta ok quindi che cosa fa è come se andasse ad acquistare un qualcosa che potenzialmente è fallimentare io non entro molto nei dettagli ma in realtà vado ad acquistare per una tot cifra che adesso non ricordo preciso 16 miliardi forse non mi ricordo ma questa banca ne valeva di meno da qua scatto una sorta di indagine della guardia di finanza non entro nei dettagli che non mi ricordo bene ma diciamo c'era stato un investimento sbagliato ecco Lucia no no comunque è complessa come vicenda c'erano stati anche dei problemi con la Nomura che è una holding una banca sempre bancaria che aveva una quale avevano fatto dei titoli che non erano diciamo stati venduti in maniera rettifizia eccetera quindi insomma il monte dei Paschi in quel periodo storico viveva la crisi delle crisi diciamo come molte altre banche però il monte dei Paschi aveva accumulato un po' forse per le gestioni diciamo allegre un po' perché appunto era un periodo di crisi economica molto seria e quindi il monte dei Paschi stava attraversando un periodo terribile pochi giorni prima era uscita oggi era stato un consiglio d'amministrazione eccetera ed era uscita una notizia tra l'altro era stato commissariato il monte dei Paschi in quel periodo era uscita la notizia che praticamente c'era la volontà di denunciare la Nomura per queste operazioni Rotti non ne sapeva niente però guarda caso era uscita sui giornali perché questa operazione avrebbe messo a rischio totalmente la futura indagine la denuncia quindi questo era il clima che si respirava a Siena in quel periodo insomma mi dispiace che non vedo Elisa collegata che lei viveva proprio a Siena in quegli anni e ne abbiamo parlato approfonditamente di quello che si respirava in quei giorni lì perché considerate che il Monte di Siena è Palio e Monte dei Paschi togli una e quindi la situazione non era delle più rose in mezzo a tutto questo giro in giro insomma tutti i personaggi che avevano a che fare con queste situazioni venivano posti non sotto indagine ma comunque nel mirino delle forze dell'ordine al punto che la finanza si presenta in ufficio e a casa di Davide Rossi in contemporanea per effettuare una perquisizione che cosa hanno trovato? niente di niente perché tutto sommato Rossi all'interno di quel gioco di potere lui li gestiva lui in effetti era stato anche all'interno della fondazione del Monte dei Paschi era lui che gestiva comunque i finanziamenti per determinati enti eccetera però diciamo era tra virgolette pulito se vogliamo comunque in merito a quelle vicende non mi hanno trovato pigli questa perquisizione lo aveva particolarmente sconvolto diciamolo perché lui era rimasto veramente male insomma ha detto ho dedicato la mia vita al diciamo a lavorare con comunicare l'addetto stampa di fatto il capo della comunicazione che di certo non è l'addetto stampa di un consigliere comunale di una città di provincia però lui tutto sommato diceva io ho lavorato a fianco dei potenti so tante cose magari posso essere utile se mi fanno le domande ma io non c'entro niente questo lui lo ha sempre rivalito e anche nel corso di queste perquisizioni non è stato trovato diciamo la pistola fumante ovvero una carta precisa una prova in cui si dice si ha venduto la notizia a quello perché l'ha pagato fondamentalmente insomma ecco non c'era niente di niente anche perché lui diciamolo per chiarezza non è stato mai indagato in questa vicenda i documenti che cercavano dei documenti che collegassero Mussari all'ex delegato della banca Montevastri di Siena e Anton Veneta quindi in realtà lui era solamente un tramite essendo il capo di addetto alle comunicazioni magari nel suo ufficio avrebbero potuto trovare qualcosa ma lui non sapendolo e pensando di essere una posizione grave quindi di essere responsabile di un qualcosa di cui magari non si rendeva conto di avere delle ripercussioni legali e di perdere il lavoro entra proprio in uno stato di malessere totale e questo lo sappiamo perché tutte le persone che ce lo descrivono da quel momento della perquisizione in poi parlano di un David molto scosso e con dei comportamenti che non passano inosservati in pratica per riassumerli lui si sentiva sempre perseguitato si sentiva intercettato spiato seguito era ansioso aveva paura in realtà questo atteggiamento poi non si spiega neanche totalmente perché se pensiamo di essere comunque soggetti ad un'indagine da parte delle forze dell'ordine non hai tra virgolette paura dell'intercettazione di qualche altra cosa io ho percepito un po' da chi lo descriveva che lui avesse paura di altro perché in quel momento forse aveva cominciato a dichiarare a qualche sua conoscenza che avrebbe parlato ai magistrati di tutto ciò che sapeva questo è quello che c'è lo scenario per le prime ipotesi suggestive nel senso che una persona informata su tante vicende di Davide cioè come David Russi perché vi ricordiamo l'abbia detto all'inizio aveva affiancato l'ex sindaco di Siena poi arrivando al Monte dei Paschi quindi sono Paschi poi la banca perché banca e fondazione sono due cose distinte poi lì non so se sapete che c'è la storia diciamo del Palio di Siena le varie contrate e quindi anche poi ci sono personalità di spicco anche per queste contrate quindi c'è una sorta di mi permetto di chiamarla così elite cittadina alla quale sicuramente David si era accostato quindi poteva conoscere delle cose ovviamente lui è cresciuto cioè lui era cresciuto all'interno della contrada della lupa era amico del Fuglio di Aceto che è il più grosso fantino del Palio di Siena una vera istituzione tra l'altro facevano parte proprio del club della birreria che erano anche lì sotto sotto l'occhio cioè faceva parte frequentava lo stesso locale e gli stessi amici ma erano o amici di Contrada o comunque amici di del cazzo ma erano allora volevo dire una cosa per rispondere un po' ai commenti di qui Nervinia la tua considerazione non è sbagliata nel senso che non aveva motivo di avere paura perché poi è finita un po' a terra luce e vino però devi ricordarti che siamo nel 2013 e quando ci fu il primo scandalo legato ad Anton Veneta con la Banca Popolare il famoso periodo di Bankopoli che mi pare siamo intorno al 2005 comunque dopo un'indagine portò a una condanna con condanne superiore ai 4 anni l'ex presidente mi pare di Banca Italia insomma quindi comunque non potevi mai avere la certezza che effettivamente insomma qualcosa se qualcosa andava storto poteva finire male in qualche modo quello che sicuramente lascia un po' perplessi riguardo a questa situazione è che effettivamente nessuno indagava su Davide Rossi e comunque il suo ruolo sembrava un po' marginale quindi realmente sembrava che la sua preoccupazione fosse esagerata non tanto perché effettivamente erano indagini che finivano un po' diciamo a terra lucebino come ho detto poco fa ma più che altro perché lui effettivamente non aveva avuto chissà questo gran ruolo però l'indagine sul Monte dei Paschi c'era perché mi pare che loro avevano acquistato la banca già a un sovrapprezzo e in più nel giro di pochissimo si ritrovarono col doppio dei debiti quindi insomma è un po' esatto Monica Antonio Fazio grazie Monica il più grande scandalo che abbia mai colpito Banca Italia che partì proprio dal tentativo di scalata d'Anton Veneta che quindi si trascinava già i suoi problemi quindi sapete nessuno poteva avere se effettivamente qualcosa di poco corretto c'era stata nell'acquisizione nessuno poteva avere la sicurezza che non finisse insomma non si finisse sui giornali o comunque con una condanna perché considerate che per quanto una condanna a quattro anni come giustamente ricorda Monica fu uno scandalo enorme cioè la tua reputazione è finita e David Rossi era un uomo che viveva di reputazione c'era un uomo che ci teneva si era guadagnato la sua posizione sociale in un piccolo centro cioè sia mai la vergogna di finire indagato in questa situazione quindi sì però ecco non è che ci andavano leggeri con le banche erano al centro dal 2005 mi pare che poi alla fine tutte le varie indagini si sono concluse nel 2017 quindi insomma non è stato un exploit della guardia di finanza o di chi è indagato che si è concluso e basta cioè sono andati a fondo poi probabilmente il trend è cambiato hanno pagato in quattro mi pare all'epoca e poi insomma non ha pagato più nessuno però ecco non poteva saperlo né lui né chiunque in quel momento sapeva di essere indagato ecco questo volevo dire comunque tornando un po' su Davis aveva mandato anche delle email due giorni prima della morte all'amministratore Viola che era in vacanza per fatti suoi dicendogli guarda io ho necessità e urgenza di mettermi in contatto con i pubblici ministeri che stanno indagando su questa faccenda perché io conoscevo tutti conosco tutti quindi magari posso dargli delle informazioni sono pronto a rispondere alle domande Viola vabbè un po' era in vacanza un po' è comunque un po' attente e alla fine non si sa come comunque ti ero sti dai PM non ce l'hai chiamato questa è la verità diciamo che su questa su questo aspetto e lì cominciano diciamo le prime i primi sospetti no? perché comunque come fatto è abbastanza strano quindi subito ci si concentra sul cosa doveva andare a raccontare i pubblici ministeri no? dall'altra parte chi ha ricevuto questa richiesta ti sostiene in qualche modo no? che lui in realtà non aveva niente cioè non c'entrava niente in questa storia quindi è rimasto stranito da questa richiesta perché effettivamente nessuno stava indagando su di lui quindi se poi effettivamente dei motivi c'erano legati a quell'indagine quindi a questo momento siamo fuori da feste festini e quant'altro no? stiamo parlando dell'acquisizione di Anton Veneta no Lucia? sì quindi in quel caso lui non era indagato non aveva ricevuto nulla e la situazione sembrava palesemente tranquilla anche negli ambienti era lui che aveva questa preoccupazione molto crescente nei riguardi di questa situazione e quindi da lì cominciano le stranezze ti ridò la parola che tu a riassumere raccontare i fatti sei ma io vai o vai tu Gio sì tanto poi da lì diciamo è veloce le escalation fino ad arrivare poi al giorno morte perché il 4 marzo come ha detto Lucia c'è questa sorta di scambio di mail ma non è anche uno scambio perché in realtà alla fine Viola si limita a rispondere o si limiterebbe a rispondere di fare quel che senta tutto sommato quindi di andare poi da chi di dovere perché magari come ha detto Lucia era in vacanza si sarà anche stanito di questo atteggiamento ansioso di David Rossi poi il giorno dopo diciamo c'è un fatto molto singolare lui ancora ansioso adesso non mi ricordo se la figlia acquisita Caroline Hollande c'è la figlia della moglie Antonella Tognazzi va a casa sua e vede mi pare dei segni sul braccio lui non dà spiegazioni verbalmente di questi segni sul braccio e con la scusa di dire che deve fare un disegno in realtà scrive su un pezzo di carta non parlare di questa cosa né a casa né a fiori da nessun'altra parte con un biglietto gli dà un gli dà questo diciamo questo foglietto la figlia acquisita gli fa capire diciamo siamo intercettati e lui dice sì sì quindi già là si percepisce uno stato di ansia dovuto a questo controllo che lui immaginava ad avere il giorno dopo poi che cosa succede la moglie Antonella che diciamo è molto preoccupata per lo stato di David che veramente lo vede angosciato sono decidi di chiamare di prima mattina il fratello Ranieri il fratello di David e di vedere se può fare qualcosa un attimino cercare di capire la situazione di agginare di placargli un po' con l'animo tanto è vero che poi i due fratelli si incontrano per pranzo ma lui lì proprio manifesta il massimo dell'angoscia perché fa cambiare meta ogni due secondi cioè mentre uno sceglie il ristorante prima uno per un altro poi un altro e quindi già questo è un elemento di grande pressione come se lui fosse pressato da un qualcosa ma anche poi quando arrivano a questo ristorante il fratello descrive David angosciato cioè tipo che parla a bassa voce si guarda continuamente intorno come se anche i muri potessero sentire no quello che c'era quindi effettivamente lui aveva uno stato molto ansioso ansioso no quello che poi spinge appunto all'ipositi del suicidio secondo me poteva essere anche proprio questa cosa diciamocelo fuori dai denti già da adesso la causa di morte moraggia interna perché lui precipita e tra poco andiamo a vedere come è precipitato effettivamente una persona angosciata che magari potesse venire fuori una cosa del genere che fa di questa cosa una sorta di di ossessione no permanente cioè non ci dorme la notte di giorno sta con l'ansia può arrivare un gesto estremo di questo tipo quindi diciamo l'indicatore di una sorta di stato persecutorio alto ti può portare a fare una cosa del genere di chissà che cosa mi accade chissà che cosa mi può succedere quello ma in più ci potrebbe stare lo scenario che poi diciamo è stato anche vagliato dalla procura che è quello dell'istinguazione al suicidio perché magari lui aveva detto che poteva parlare di queste cose ha agitato gli animi di qualcuno che poteva magari aver paura di un qualcosa che venisse fuori un qualcosa di molto delicato qualcosa di scandaloso si è parlato di istigazione al suicidio perché probabilmente poteva essere stato ricattato da qualcuno perché adesso questo qui parla vengono fuori delle cose che non vogliamo far sapere più che altro scusatemi più che altro bisogna dire una cosa al di là che sappia o non sappia cosa che probabilmente essendo qualcuno ricordato a capo della comunicazione probabilmente lui insomma sapeva un po' tutto quello che succedeva dentro ma al di là di tutto la sua crescente preoccupazione poteva essere diciamo pericolosa per gli altri perché magari poteva anche dire delle cose che non c'entravano nulla e che comunque poteva portare ad avere dei problemi che non erano previsti quindi cioè se tu ti rendi conto no che c'è una persona instabile in quel momento perché ha perso ha perso la ragione cioè probabilmente cioè non è che sto giustificando eh attenzione però magari qualcuno può anche aver compreso il suo stato d'animo e abbia in qualche modo detto vabbè se non c'è meglio che ti ammazzi perché e ti vengono ad arrestare no ha potuto tranquillamente amplificare le sue paure che lo hanno portato a un gesto del genere cioè ci possono essere vari scenari dietro dietro questa situazione perché effettivamente un po' strano ragazzi era cioè tu non hai un'indagine sai che c'è alla lontana questa situazione pare che tu non abbia nulla a che fare saltare subito a delle conclusioni e andare in questo stato di ansia e di agitazione sicuramente non era diciamo una presenza felice per nessuno lì all'interno no questo questo diciamolo ora al di là delle intenzioni malevoli che potesse avere qualcuno cioè se io sto svolgendo il mio lavoro tranquillamente dico vabbè indagheranno e io ne uscirò pulita perché alla fine non ho fatto niente avere qualcuno invece che sta con l'ansia e dice no dobbiamo dire la verità o altro magari ti mette un po' in soggezione quindi sicuramente lui è in una posizione molto scomoda non sappiamo se effettivamente chi ha ricevuto l'email cioè perché anche in buona fede chi ha ricevuto l'email può dire ragazzi ma questo che gli è preso che vuole andare a parlare col PM ma che gli deve andare a raccontare quindi comunque la situazione che fosse tesa e fosse molto particolare è inutile negarlo però c'è da dire che qualcuno dice io non credo al suicidio allora una serie di circostanze fanno pensare effettivamente che ci sia qualcosa di strano dietro questa morte e adesso Giovanni da un punto di vista criminalistico continuerà ad analizzarle però dobbiamo dire una cosa ragazzi che lui fosse diciamo in una situazione psicologica molto particolare no e che potesse avere proprio cioè preso dall'ansia potesse arrivare a fare un gesto del genere cioè ci sta tutta io posso anche credere che non si sia suicidato però dire non lo avrebbe mai fatto probabilmente non avrebbe mai fatto neanche quello che aveva fatto in quei giorni cioè lui aveva perso il controllo della sua del suo stato d'animo della sua diciamo non era più tranquillo quindi in una situazione del genere quando tu ti convinci che puoi finire in un grosso guaio e tutta la tua vita per la quale hai lavorato duramente può finire cioè non andiamo lontano ci sono un sacco di imprenditori che senza andare a finire in galera semplicemente per il fallimento di un'azienda si tolgono la vita quindi come profilo insomma ci siamo il punto è che stiamo sempre lì anche se ci sono no gli estremi per ipotizzare un suicidio non vuol dire io posso anche essere convinta di aprire la finestra e lanciarmi ciò non toglie che mentre io faccio una cosa del genere e magari sono tentennante sul momento passa Giovanni e dice ma che cavolo ci perdi tempo ah buttati che è meglio no quello non è un suicidio quello è un omicidio cioè quindi fino a quel punto diciamo siamo tutti d'accordo quindi il fatto che lui avesse un po' una situazione particolare non può non assolutamente portare gli inquilenti ad indagare su una serie di circostanze dopo pare che l'abbiano fatto e loro sostengono che non ha portato comunque a nulla sul punto sul momento invece mi pare che questa l'idea che ci potesse essere dietro qualcosa non ha sfiorato minimamente nessuno se non la famiglia e quindi insomma ti ricedo la parola poco prima di fare questo gesto lui si era accordato con una sua collaboratrice per mettere appunto gli ultimi dettagli di un evento che ci sarebbe stato la mattina successiva e lui aveva detto ci penso io ad andare a prendere l'amministratore e accompagnarlo a questo evento che non era neanche a Siena tra l'altro era a Firenze quindi lui aveva comunque una progettualità era tutto organizzato nei dettagli di questo grosso evento della banca per il giorno dopo per la mattina dopo Giovanni qualcuno chiede della caduta perché spiega ci arriviamo tutto tutto in dettaglio parleremo della caduta di tutti gli altri elementi e di quello che non è stato quindi anzi tra poco ci arriviamo perché siamo arrivati quasi purtroppo all'evento fatale perché lui diciamo trascorre appunto quelle sue ultime ore in ufficio vede una collega intorno alle diciotto poi sente la moglie Antonella al telefono intorno alle sette lei stava male a casa quindi lui doveva andare lì per darle dei medicinali fare una silinga una cosa del genere ma lei proprio preoccupata perché non lo vedeva arrivare comincia a cercarlo a telefonarlo e lui non risponde lei chiama addirittura il custode dei Monti dei Paschi di Siena che inizialmente mi pare che non risponde perché preoccupata per David purtroppo poi si accorgeranno che lui non c'è più quando quando la figlia Carolina si rega lì perché Antonella la moglie dice guarda doveva venire quelle sette e mezza ma non si è presentato sto telefonando non riesco ad avere notizie quindi passa proprio il Monte dei Paschi di Siena dove c'era l'ufficio di David verrà accompagnata poi su dal custode che dice di aspettare tipo all'esterno del c'è anche un collega che Antonella aveva chiamato nel frattempo un collega amico proprio erano amici anche erano andati lui Carolina vuole salire e farsi aprire dal custode però questa persona gli dice di aspettarlo e di entrare insieme entrano lui spedisce Carolina nel suo ufficio e entra nell'ufficio di David e a quel punto si vede la finestra aperta era comunque il 6 marzo e dilubiava a Siena quei giorni e affacciando si vede sotto il corpo di David quindi anche questo l'amico non ha voluto che Carolina salisse da sola 20 anni si poteva impressionare ma era normale che un cristiano si suicidasse dentro l'ufficio della banca ma anche poi già vedete questo sentore semplice che fosse già accaduto qualcosa è molto strano perché magari nessun tipo di sentore se ci si andiamo a vedere un attimo che è successo sali senza fare tutte queste cose tipo no aspetta là vado a vedere prima io che cosa è successo è un po' strano no ecco perché poi dico è successivo quindi poi quando si affaccia ritorna fuori e va dalla figlia e dice guarda tragico evento David ci è lanciato proprio uno dei punti chiave diciamo un pochino più controversi che ha fatto discutere è la dinamica dell'impatto caduta che per dirla quasi in breve è stata analizzata più volte sono state fatte varie ricostruzioni e varie simulazioni la prima di queste simulazioni è stata fatta proprio con un vigile del fuoco che ha mimato un pochino cosa poteva succedere altre ricostruzioni sono state fatti con dei software di simulazione virtuale per provare un pochino le varie dinamiche A per vedere le posizioni da cui si sarebbe lanciato se l'ha fatto da solo a posizioni se è stato qualcuno a lanciarlo o a lasciarlo cadere perché vado in dettaglio su questa cosa allora dal modo in cui impatta la dinamica ci dice che lui è sceso dalla finestra non lanciandoci frontalmente ma in pratica è come se avesse dato le spalle alla strada per intenderci e poi cade proprio a picco dalla finestra quindi sembra una spinta tutti gli effetti no? in realtà non proprio perché quando perché dal video si vede bene lui cade quasi paro paro al muro no? quindi come se fosse come se fosse come se si fosse prima mantenuto vicino alla sbarra di sicurezza della finestra ma adesso torniamo un attimino a quel punto e poi si si è lasciato cadere perché se vedi il video lui cade proprio passo passo una spinta avrebbe dato una proiezione con un sì sì ora me lo ricordo un impatto un pochino più distante ok? invece lui cade proprio così bello dritto dritto quindi impatta prima con le gambe il sedere e il torace quindi cade dritto e fa così ma quasi vicino al muro quindi veramente la dinamica del punto di caduta è che lui cade dritto così quindi non c'è una spinta tant'è vero l'ipotesi poi se coinvolge dei terzi che questi terzi l'abbiano mantenuto per le braccia così e poi lasciato cadere non l'abbiano spinto quindi questa qua tra le ricostruzioni che vengono fatte quindi arrivo direttamente al punto vista che stiamo parlando di quello le fanno di tutti i modi ma questa qui che sto dicendo io dove qualcuno l'ha tenuto per le braccia e poi l'ha lasciato cadere non è stata ricostruita ed era stata anche indicata ovviamente dai consulenti della famiglia ma tra le mille ricostruzioni fatte manca proprio questa qui che è l'ipotesi fatta quella che viene fatta è quella di una spinta che diciamo è come se all'improvviso uno si fosse tuffato di spalle che non sta né in cielo né in terra in più ritorniamo un attimino all'ipotesi suicidiale no? perché Zavattaro è il primo che fa la ricostruzione e ci dice una cosa molto importante dice che lui aveva come degli impulsi psicologici che lo portavano dall'istinto di volersi togliere la vita all'istinto di sopravvivenza e anche in quel momento si rivede questa cosa secondo lui lui si stava per lanciare poi nell'ultimo secondo preso da una sorta di indecisione finale si si è attaccato alla sbarra tra l'altro una finestra stretta non è che era proprio una finestra dove potevi armeggiare diciamo vabbè no però ce la potevi fare a farlo il problema cioè i problemi sono due fondamentalmente allora il primo è più facile da spiegare anche se nel momento in cui ti stai aggrappando e c'è il davanzale che comunque sporge rispetto alla sbarra dovresti avere comunque dei segni qui sotto no? che non sono stati riscontrati nel momento in cui stai per cadere in più ti viene quasi distinto naturale poggiare le punte dei piedi vicino al muro no? per provare magari che ne so a risalire questo fatto di avere la punta dei piedi vicino al muro ti dà una sorta di spinta che ti fa cadere diversamente da come è caduto lui a picco ci dovrebbe dare una spinta più o meno rotatoria ok? quindi punta dei piedi sbarra mi stacco dal muro questo mi dà una spinta all'indietro lui invece cade proprio così ta poi gambe e schiena quindi lui cade a picco non li poggia mai questi piedi vicino al muro e poi tendenzialmente mi ricordo che era abbastanza pulito qui sotto se noi pensiamo che era giorni che ne so di pioggia quant'altro se c'è un po' di terreno pulvere sul davanzale secondo me ti sporchi no? un pochino c'è la camicia bianca immacolata in quel modo diciamo che se dovessi pensare a una dinamica suicidaria più di pensare che all'ultimo momento si è trattenuto penserei che non ha avuto il coraggio di buttarsi e quindi si è caduta a poco a poco pensando a un certo punto non ce la faccio più a tenermi e cadrò e muoio cioè proprio pensata in questo modo che è assurda però mi sembra molto più compatibile col fatto che io prima mi voglio lanciare poi ci ripenso mi aggrappo cioè credo che sarebbe caduto in maniera molto più scomposta no perché nella paura credo che che provi insomma a girarti a muoverti quindi non credo che sarebbe riuscito ad aggrapparsi all'ultimo momento sembra più l'idea che dici guarda mi calo a poco a poco a un certo punto non ce la farò e quindi mi lascio io non vedo nulla no faccio solo questo gesto che è agghiacciante però insomma potrebbe essere più plausibile però l'idea la dinamica dell'impatto siamo ancora lì nel senso che una spinta vera e propria così non cessata quindi tendenzialmente l'unica strada che resta plausibile se vogliamo convolgere le terze persone che la abbiano calato così tra poco però dobbiamo andare a mettere un attimino degli altri punti ma ci arriviamo tra poco perché già nella prima fase noi abbiamo quello che poi è stato discusso anche in sede di commissione parlamentare perché non fu disposta a nessun tipo di autopsia e fu disposta veramente ma mi sa dopo 8 o 9 anni è stata fatta non mi ricordo quando non c'era nulla da fare la valutazione in merito ho una domanda da farti perché non ho riguardato poi tutto il servizio delle Iene ma non ha urlato cioè nessuno ha sentito nulla vabbè erano tutti uffici quindi non c'era più nessuno no allora una sua collega è uscita e è dovuta passare davanti al suo ufficio dicendo che la porta era aperta e la luce era accesa quando lui già era questo non lo ricordo non ha sentito nulla però lascia stare il palazzo interno magari con le finestre chiude se dei palazzi vicini cioè non c'era nessuno sono tutti ufficili eh tu dice nulla poi c'è nulla nel senso sono tutti è tutta tutta la banca quella zona quella parte lì poi c'è la telecamera allora la caduta di David viene ripresa da una certa altezza ovviamente non è che ti riprende dalla finestra a scendere ma in maniera precisa lui rimane sdraiato a terra per un tempo infinito sì e c'era un custode che esisteva questo custode che come diciamo si guadagnava il suo stipendio guardando il monitor delle telecamere perché a quell'ora lì negli uffici della banca questa persona non ha visto assolutamente niente e questo è rimasto a terra sdraiato in quel modo per un bel po' di tempo perché loro individuano all'orario dell'impatto più o meno alle 19 43 una cosa del genere poi diciamo è verso le 20 e 25 che no forse le 20 e 20 lo vedono alla finestra poi giù arrivano intorno alle 20 e 25 20 e 27 diciamo Mingrone e Filippone giù nel vicoletto e quindi per quasi 40 45 minuti nessuno ha visualizzato le telecamere come tu e le telecamere pure sono una cosa abbastanza controversa li andai proprio un attimino proprio su questo fatto delle telecamere un attimino perché? altra cosa perché Filippone che è il signore il collega che aveva contattato Carolina quando ti affiappaccia e lo vede sdraiato a terra perché non prende un cavolo di cellulare e dice scusi salve se è buttato uno dal monte dei vaschi non lo fa lo fa un'altra persona che era lì in zona è stato avvisato è arrivato e soltanto questo qui si è deciso a prendere il telefono e a urlare correte correte venite a Rocca salimbeni perché c'è questo che si è buttato dalla panca anche questa è un'altra cosa molto strana secondo me sì sì il custode non si è accorto di niente per un bel po' però guarda poi uno dice non deve analizzare queste cose perché ognuno reagisce come vuole anche se guardate i video quando arrivano colleghi amici e quant'altro sulla scena guardano la cosa come un po' come se si fosse rotto qualcosa in strada come se fosse saltato che ne so un però questo può essere letto in un'altra chiave no e perciò uno non dovrebbe fare valutazioni però ti fa restare un po' in un po' in un po' questo appuntamento tra Mingrone e Filippone Mingrone non era particolarmente legato a Rossi da un punto di vista personale Filippone dice che andavano a correre insieme erano amici incontrate le famiglie e tutto il resto io ti dico le varie interviste che ha riportato la moglie che ha rilasciato la moglie che ha rilasciato la figlia e Mingrone prende il cellulare si mette ad urlare correte subito correte subito 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 ripete più volte la parola subito l'altro si avvicina lo guarda che è sta roba un portafoglio a terra sembra la stessa reazione che in teoria ti aspetteresti non ti dico il contrario ma però ti dico una cosa questo mi fa pensare a un altro aspetto se io sono vicino a una persona e so che quella persona ha dato segni di squilibrio in qualche modo e poi la trovo così magari non ho quella reazione esagerata perché me l'aspettavo e quindi mi viene da dire che cavolo l'ha fatto sul serio cioè rimango un po' più impassibile rispetto a cioè come se fosse un suicidio tra virgolette che queste persone si aspettavano in qualche modo no? come a dir l'ha fatto veramente l'ha fatto veramente quindi non rimani lì ad ammazzarti da vita quello che mi lascia perplesso più che altro è che cioè comunque vedi una persona a terra non lo sai se vivo morta quindi l'istinto è quello di avvicinarti e quantomeno vedere come sta non ti dico toccarlo ma proprio avvicinarti no? per vedere un attimo no ma poi quando vedi a sopra cioè tu possibile che aspetti di scendere di fa tutto il giro ad arrivare lì con calma cioè non non ti viene l'istinto di prendere un telefono e chiamare cioè sei in una banca però Rossella volevo rispondere a Rossella scusami Lucia sì Rossella io non ti dico toccare o non ti avvicini perché ti fa impressione però vediamo che quello è abbastanza vicino quindi l'impressione l'hai superata se ti avvicini così tanto cioè quantomeno abbassarti senza toccarlo per capire se sta respirando o a quel punto magari provare anche a rianimarlo insomma diciamo mi sembra al minimo questo è l'atteggiamento più strano rispetto al rimanere impassibile perché nessuno in quel momento ti sta dicendo che è già morto non è facile tra l'altro non c'è tanto sangue anzi non ce n'è proprio quindi insomma potrebbe anche essere vivo ecco che poi le hanno chiamate ovviamente i soccorsi però poi più che altro sono andati a vedere un pochino le tempissiche perché poi hanno fatto un giro lungo quando lì c'era una porta che ti portava direttamente su questa strada qui in pratica ma queste telecamere giusto per fare un attimino un riassunto perché altrimenti saremmo delle ore che cosa riprende aspetta Giovanni scusami scusami volevo rispondere a Guglielmo no perché non è non è previsto tra l'altro non c'è neanche stata l'omissione del soccorso perché comunque hanno perso del tempo ma i soccorsi li hanno chiamati quindi non aveva alcun senso per rispondere ad un test antidroga ai presenti assolutamente no semmai più che altro probabilmente fare un po' diciamo le pulci sul momento al custode che non si è accorto quello sì ma alla gente che passa assolutamente no non è sono stati sentiti tutti 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 su questo sì hanno fatto dichiarazioni hanno raccontato tutto quindi anche proprio degli stati di David dei giorni prima qualcuno ha detto qualcosa c'era stata una scena particolare dove già l'avevano visto agitato quindi comunque hanno raccontato di David quindi sono stati sentiti veramente tutti da questo punto di vista sì la cosa che inquieta un attimino è la ripresa che avviene dal momento cioè il punto della ripresa dal momento dell'impatto fino a quando non verrà scoperto poi diciamo dai colleghi dal custode perché si vede una sorta di ombra che poi si verrà essere un uomo che nei 22 minuti circa di agonia sta più o meno nel vicoletto dove c'è David si vede bello paro paro dal video che questa persona guarda sta al telefono e non fa nulla non fa perfettamente nulla cioè guarda il corpo di David lì in strada e non fa nulla quindi arriviamo già sul punto A è un atteggiamento stranissimo B quello che è stato poi oggetto di controverse è questo punto qui dicono perché i magistrati dell'epoca non hanno acquisito diciamo i risultati delle celle telefoniche agganciate alla zona per vedere chi potesse essere quel tizio portandolo poi in tribunale con l'accusa di omissione di soccorso perché alla fine di quello si tratta perché pure se è qualcuno che non è legato alla vicenda ok però vede una persona visibilmente in uno stato del genere cioè stava con la camicia diverso in strada poi comunque il video va avanti si vede che si muove un po' mi pare che si tocchi si vede che non è una persona che sta bene tu sei lì solo a curiosare senza chiamare quella una missione di soccorso ok allora si può dire tu finché non hai la certezza che quella persona abbia bisogno di aiuto non si può andare a fare un capo di imputazione del genere però dico io è palese che non stia facendo diciamo la scampagnata del vicoletto lì e che abbia palesemente bisogno di aiuto quantomeno ti avvicini a cercare di capire comunque tendenzialmente è una persona innocua non è che si alza all'improvviso e può ferirti o ti avvicini quantomeno quindi questa persona qui è una cosa sospettosa in più altra cosa delle telecamere però aspetta aspetta scusami Giovanni tu ti riferisci a quello che sembra che lo veda e poi si allontana si 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 è vero non vero e però non è la prova che lui l'ha ben visto è possibile che l'ha visto dai e no perché lo fa più volte che si affaccia però magari pensi che ci sia qualcosa e poi pensi non lo identifichi da lontano cioè io ci credo che l'ha visto però imputargli l'omissione di soccorso non credo quanto meno andare a verificare lo senti capisci che ne so magari cioè per una volta che l'hai visto puoi anche scoprire che è uno che è orbo come una palpa e non l'ha visto che ne so si si per carità io volevo mettere solo questo nel commento di Monica che questo soggetto dalle telecamere scompare nel momento in cui potenzialmente si vede che Davide alla telecamera manco si muove più come se avesse aspettato la morte cioè è stranissima questa circostanza che lui sta lì per tutti i minuti dell'agonia quindi dall'impatto fino a quando potenzialmente forse si accorge che è finita e poi non c'è più cioè pure questa è strana come coincidenza però la distanza è tanta ragazzi la distanza è tanta però io questo non sei completamente cerco quella è una prospettiva ragazzi la distanza è tanta cioè guardate c'è una macchina c'è dello spazio davanti alla macchina e poi c'è lo spazio dietro quindi da lì capire se è vivo e si muove non è assolutamente semplice però comunque sia il corpo a terra che andava sentito andava sentito che andava cercato però che lui stesse guardando se stava vivo o non vivo francamente perché comunque si vede come se ci fosse una sorta di ombra no? che sta lì proprio giusto giusto parla la strada non lo so è strano comunque quantomeno visto che comunque ci sono state una migliade di cose strane che si accostano anche a questo fatto ti veni da pensare che lì intorno in quel momento lì c'era un clima ci fosse di sospetto a me questa persona comunque quest'ombra chiamiamola così mi fa sospettare perché è una coincidenza parecchio strana beccata dalle telecamere ma sta roba viene fuori nella commissione di inchiesta perché in una pendrive della polizia dove c'era appunto il video che inizia proprio da un minuto prima dell'impatto di David fino all'arrivo diciamo dei colleghi e poi i soccorsi succede una cosa si vede che c'era stato c'era un file cancellato in questa pendrive alla fine dopo varie periferie ve l'ho accorto recuperano sto file e che si vede si vede da una telecamera che non mi ricordo che numero è uscita da una porta secondaria che a quell'ora doveva essere chiusa di due soggetti chi sono questi due soggetti e perché sono usciti da là da una porta che doveva essere chiusa alle otto di sera e questi due soggetti escono due minuti dopo dal fatto cioè lui si lancia dopo due minuti scendono in sala potenzialmente se devo pensare all'omicidio quei due potevano essere gli assassini tranquillamente anche perché in un luogo non convenzionale perché ragazzi siamo in una banca quindi poi forse a un certo punto per una questione di sicurezza e controlli si entra e si esce solo dall'ingresso principale perché sorvegliate magari non c'hanno le altre guardie gli altri custodi mi pare che avesse tre ingressi uno principale e due laterali uno di questi è quello che vede uscire questi tizi e poi all'improvviso questo video era tra virgolette stato cancellato ed è stato uno diciamo degli operatori che si è occupato e questo fatto è pure strano quindi ci sono l'ombra poi ci sono questi due che escono dalla parte del retro è pure strano io devo mettere in sovraimpressione diciamo Giovanni scusami non ti si vede più questa nuova layout che hai scelto ti copre porto una piccola esperienza personale a me capitò di incrociarle in occasioni formali un comunicatore molto rispettato e forse demuto io faccio lo stesso lavoro ma in ambito politico-istituzionale quello che posso dire è che in quegli anni nel mondo privato specie bancari dirigenti della comunicazione gestivano un enorme potere per via di sponsorizzazioni eventi campagne pubblicitari se mai ci fosse ancora a indagare su questi legami mi concentrerei ho messo questo colmento in sovraimpressione a parte per la testimonianza perché mi voglio diciamo collegare a un discorso a una considerazione che ho fatto sul caso no? Credo alla luce anche di quello che sono state le assoluzioni le archiviazioni in sull'operato dei magistrati credo che purtroppo noi siamo abituati ragazzi a vedere un lavoro fatto male quindi il lavoro fatto male che diciamo non voglio offendere la sensibilità di nessuno però mi pare palese che ci sono state abbastanza indagini lacunose sotto un certo punto di vista non è detto secondo me la storia dei festini questa storia è stata buttata in cacciara sicuramente perché questo era forse l'unico modo per attirare un po' l'attenzione e anche perché molti ci hanno visto un muovente forte un depistaggio legato a quel mondo lì e seguire questa pista l'unica e sola con l'assoluzione dei magistrati che effettivamente hanno potuto dimostrare di aver fatto il loro non assoluzione ragazzi archiviazione scusatemi di aver fatto il loro lavoro senza che ci sia stata dolo cioè nel senso abbiano sbagliato volutamente no e perdere questo perdere del tempo solo seguendo questo filone no dei festini e quindi andare a guardare il motivo per cui si dovevano coprire delle indagini perché alla fine questo è probabilmente ha spostato l'attenzione su quelli che potevano essere effettivamente le preoccupazioni di David che secondo me non stava pensando ai festini ma appunto a qualcosa di illegale o comunque di gestito male che lui aveva fatto e che magari poteva pensare saltasse fuori perché mentre sapete le indagini no le intercettazioni e altro tu cerchi una cosa magari ne trovi un'altra no e quindi magari se si fosse diciamo scavato cercando nel in quelli che potevano essere i potenziali moventi no che non erano per forza legati ad Anton Veneta all'indagine su Anton Veneta o ai festini magari avremmo potuto avere diciamo dei risvolti diversi però purtroppo dall'altra parte si era deciso che si trattava di un suicidio e quindi insomma c'era un momento di di stasi no ormai era finita lì e dall'altra è venuta fuori questa storia dei festini che francamente insomma adesso non entriamo nel privato di quello che è diciamo sono le abitudini delle persone al di là che siano magistrati sindaci o quello che è insomma questo ha un po' spostato l'attenzione secondo me e alla luce di quello che è successo insomma di come sono andate le cose e forse non ha giovato molto all'indagine no perché prima di andare a pensare al motivo per cui un magistrato depista volontariamente delle indagini devi andare a cercare il motivo per cui lui potrebbe aver fatto questo gesto comunque era preoccupato perché francamente io all'intrigo internazionale per coprire i festini che si facevano non so dove dove cioè ce ne saranno milioni in Italia di festini di questo genere dove partecipano insomma all'ice white shot io non credo fosse questa grande preoccupazione tanto che infatti poi ci sono stati testimoni lo hanno raccontato è finita lì cioè che preoccupazione dovevano avere i magistrati se poi questa cosa è saltata fuori ed è finita come vabbè bollati come pazzi cioè non è che se lo raccontava a David Rossi che c'erano i festini e partecipavano i magistrati ce l'avrebbero creduto e oh mio Dio i magistrati finivano sulla porca a me come movente per depistare mi è sembrato sempre un pochettino ma io infatti la scuola dei festini è la cosa a cui sinceramente ho sempre pensato di meno però lì qualcosa c'è stato cioè perché appunto poi Giovanni andranno andando avanti la spiegherà anche meglio insomma però è quello il pulcro cioè il problema fondamentale è che poi tutto si è spostato sulla presenza di tre magistrati sul luogo del delitto che è già un po' strano però sapete è morta una persona importante tanto strano io non lo vedrei quindi perché non hanno fatto le indagini bene e subito è venuta fuori questa storia dei festini e questo ha cambiato un po' la storytelling di questa storia perché dobbiamo dire che è così ci sono state una serie di strane coincidenze c'è in pratica c'erano dei soggetti che si erano trovati manca a farla apposta nei dintorni di quel vicoletto che erano soggetti che comunque erano stati indicati da potenziali testimoni vi chiamo così che erano questi escort di questi festini in particolare uno che ha fatto nomi e cognomi di qualche magistrato di qualcuno delle forze dell'ordine che non vi li vado a dire chi sono ve li potete cercare nei documentari in pratica vengono proprio indicati come soggetti presenti a questi festini descrivendo anche tutte le varie pratiche i vari giochetti che si potevano fare in questi festini e con non dovizia di particolare manca a farla apposta questi soggetti orbitavano proprio nei dintorni di quel vicoletto in quel momento lì c'è qualche dichiarazione che si troverà contraddittoria dice di aver seguito ve la dico in maniera un po' generica andate poi voi a fondo perché poi non c'è stato nessun riscontro c'è questa storia dei festini è finita non è andata avanti però per dirvi quello che poteva spingere verso questa ipotesi è il fatto che qualcuno di loro ha detto che si era trovato a quasi tre chilometri da casa a comprare le sigarette in una piazza lì vicino poi ha visto una volante che sarebbe passata in quella piazza ma poi da riscontro e andando a guardare la dinamica potenzialmente non era stata così era andato da un'altra parte questo avrebbe seguito la volante per andare a vedere che cosa era successo e si è ritrovato sulla scena ok quindi questa diciamo però qualcuno ha scritto bene qui in Ervinia dice ma dopo il bunga bunga effettivamente no dopo quello che è successo a Berlusconi con la storia dei festini il bunga bunga che è finita veramente a terra luce e vino ma chi doveva avere più in Italia di una preoccupazione del genere cioè capisci poi tra l'altro come scriveva Rita i festini si fanno per creare su delizi per unire la squadra non c'hai bisogno di ammazzare qualcuno capisci perché non ci sono prove non ci sono telefoni non ci sono foto la mia parola contro la tua è un nulla di fatto è una preoccupazione che non esiste era secondo me molto più rischioso soprattutto quando ci sono tre persone provare a depistare le indagini cioè secondo me errori ne sono stati fatti ma errori ne sono stati fatti probabilmente neanche tanto per una questione di incompetenza secondo me per una questione di sottovalutazione perché sicuramente subito è venuta fuori la storia della mail subito hanno trovato i biglietti perché questo non l'abbiamo ancora detto c'erano i biglietti da Dio la ditta che era là davanti non ha sentito niente non ha sentito urla non ha sentito nulla quindi per loro è stato un suicidio non è che vai a guardare la dinamica e la cosa c'hai uno che non stava bene insomma ultimamente quella che ti dice che non è successo niente che non è passato nessuno i biglietti da Dio dici vabbè suicidio a posto così quindi non stai lì a controllare e non spostare questo e quello c'è questa cosa che poi è saltata fuori che è stato il boom è stato il comandante dei carabinieri che è stato a dire che i magistrati avevano spostato qualcosa quindi comunque erano entrate sulla scena del crimine senza comunque utilizzare dispositivi tutta una serie di cose ragazzi all'ordine del giorno senza bisogno davanti a un suicidio all'ordine del giorno allora in pratica quello che che dicono è che è stato fatto un primo video che riprendeva diciamo lo stato dei luoghi prima poi diciamo del sopralluogo tecnico vero dove in realtà non hanno fatto rilievo di tracce biologiche avevano preso delle cose e tra poco andiamo a vedere su quelle cose ma sono stati spostati proprio degli oggetti cioè innanzitutto già per esempio dalla finestra si vede che era stata abbassata poi vengono spostati degli oggetti sulla scrivania addirittura viene sistemata la giacca di david sulla sedia che prima era diciamo un po' disordinata poi viene rimessa a posto poi che cosa trovano in questo ufficio due cose importantissime i primi sarebbero dei fazzoletti con sostanza ematica la tiro subito a corto non è stata mai analizzata quindi c'erano questi fazzolettini mi sa che ve li ho messi che si ve li fa vedere questi qua e non sono stati mai analizzati cioè paranormale a voi cioè non lo so in una situazione così particolare non solo non vengono analizzati ma verranno distrutti perché la valutazione è che magari erano semplicemente spazzatura appunto uno magari si ferisce quindi butta i fazzoletti e viene considerata la spazzatura e se quel sangue non fosse stato di David non lo sapremo mai ed è importante saperlo vi abbiamo detto tantissime volte che nei casi di questo tipo ogni elemento è fondamentale perché magari lì c'era la chiave di volta per risolvere il caso perché nessuno mi dice che quel sangue lì possa essere di David perché quando poi finalmente viene fatta e non la chiamo manco più autopsia ma una valutazione su quello che era lo stato di David vengono fatte delle altre valutazioni e queste poi una volta che ho visto che sono state dichiarate delle cose in maniera così incisiva io adesso una mia tesi che protende più verso il lato ce l'ho perché è vero che non sono riuscito a spiegare la dinamica dell'impatto ma quello che è certo è che i segni che c'erano sul corpo di David sono dei segni imputabili solo a una lotta a una colluttazione avvenuta poco prima della caduta della finestra e su questo sono certi ben due medici legali perché aveva segni sul viso che non si poteva essere fatto in nessun modo vicino alla parete strisciando dalla finestra aveva dei segni poi alle braccia che non si è fatto appunto ecco scivolando attaccata alla parete né sul davanzale e aveva dei segni a polso che attraverso una serie di valutazioni per arrivare subito al dunque non sono compatibili con diciamo l'impatto dovuto potenzialmente sentite bene all'orologio ancora attaccato al polso quindi doveva impattare in strada così farsi delle ferite dovute all'impatto e l'orologio e l'orologio non si è rotto esatto ma ciò non è possibile per due motivi il primo è che che è un pochino un pochino strana questa cosa si dice che a un certo punto da questa telecamera si vede cadere qualcosa dopo una quasi 20-25 minuti mi pare dall'impatto di Davide identificano questo oggetto volante che cade proprio nell'orologio in più se l'orologio avesse impattato diciamo strada come vi ha detto Monica sarebbe rotto invece semplicemente scalfito in un punto sul bordo in più i segni lasciati lì sul polso non sono tipici dell'impatto dovuto all'orologio indossato ma bensì più a una sorta di movimento di questo tipo io indosso l'orologio qualcuno me lo tiro addirittura mi mantiene quindi ritorniamo all'ipote di prima e mi lascia più che un segno di impatto una sorta di abrasione quindi come se fosse stato strisciato quindi questa è la valutazione che viene fatta su quell'orologio in più poi resta di dare la difficile interpretazione anche dell'orologio no? non si è rotto è stato così ma proprio i segni in faccia come se li è fatti quei segni perché non vengono riscontrati in prima battuta quei segni ma infatti è quello che sgomberà il campo sono queste valutazioni qui che poi ti fanno pensare che al di là del fatto delle lettere e quant'altro e come dicevamo poco fa io posso anche essere determinata ma se poi arrivi tu e mi dai una spinta per ammazzarmi che non è quel caso mi imbutti giù non è che tanto mi volevo ammazzare quindi c'è omicidio poi c'è anche l'omicidio del consenziente ma è un altro realtà anche quello non è un suicidio quindi insomma bastava quello senza bisogno di fare scena però purtroppo queste sono cose che la famiglia ha subito subito evidenziato però insomma non sono servite allora su questa cosa dell'orologio precisiamo che non è che si è avuto una certezza assoluta che fosse caduto l'orologio che comunque le immagini la risoluzione era quello che era diciamo che potenzialmente poteva essere possibile quello anche per il modo in cui poi è stato ritrovato l'orologio che aveva tipo il cinturino da una parte e il quadrante mi sa da un'altra poi hanno visto qualcosa che è andato giù però se quello fosse stato l'orologio hanno pensato che questo l'orologio fosse in bilico tra virgolette sul davanzale che poi è caduto dopo quindi come l'ha fatti il segno al polso o la caduta diciamo quindi questa cosa dell'orologio è stato tanto sospetto ma adesso ritorniamo al punto di base perché una volta che io ho quegli elementi chiave che sono quei segni che non si è potuto procurare in fase di precipitazione e caduta allora vuol dire che qualcuno era con lui prima che cadesse poi la dinamica della caduta è ancora un'altra roba ma prima lui ha incontrato qualcuno quei segni non ce li aveva prima quindi potenzialmente allora c'è stata sta collottazione con chi nessuno ha sentito nulla nessuno ha visto nulla e poi ci sono quei due che escono da dieci che anche lì non costava al punto di vista del suicidio perché potevano anche dire si è suicidato però prima qualcuno insomma lo ha aggredito no? eh come una minaccia oggi ti debbio di morte domani ti ammazzo allora lui per paura magari ti è lanciato e quello è un reato comunque quindi comunque era una circostanza che andava indagata però ripeto purtroppo il grosso limite è che effettivamente la tizia non aveva sentito nulla e le telecamere non avevano ripreso nessuno entrare nell'edificio però ragazzi miei sappiamo che essendo una banca se parliamo di persone all'interno della banca sapevano tranquillamente come entrare senza farsi vedere ecco e qua torna l'importanza dei fazzolettini perché chi mi dice che quelli non siano i fazzolettini lasciati diciamo dalla colluttazione che magari dopo non vanno a pensare che questo è stato ucciso li lascio lì anche se sarebbe veramente proprio stupido e maldestro lasciare le proprie tracce in là così nel cessino ma nel cessino c'era anche un'altra cosa interessante che erano questi tre bigliettini dove David si rivolgeva alla moglie il problema è che su questi bigliettini venivano utilizzate parole del tutto inusuali e non di David qualcuno prima chiedeva è stata fatta una perizia calligrafica dalle cose che ho sentito dire all'avvocato mi pare che sia stata fatta però dicono che comunque tu anche sotto diciamo costituzione minacce paura magari lo scrivi il bigliettino quindi magari poteva averli scritti con questa con la scelta delle parole diciamo un messaggio alla moglie io non credo all'idea del sottodettatura ragazzi io questa cosa del dei biglietti penso secondo me la cosa più non normale la cosa più ovvia potrebbe essere che lui effettivamente quella sera pensava di suicidarsi quindi comunque fa i biglietti e tutto quanto però poi interviene qualcuno sulla scena magari c'è questa litigata questa collutazione e magari non c'era qualcuno che aveva la volontà di ucciderlo magari c'era qualcuno che in quel momento stava cercando di tirarlo su perché lui aveva deciso di buttarsi comunque e spiegherebbe anche il motivo per cui lo tiene poi gli sfugge e muore e a quel punto siccome se avessi detto che era successo quello che era successo comunque la collutazione comunque qualcosa un'indagine su di me che ero presente l'avrebbero fatta e magari io qualcosa da nascondere ce l'avevo perché che ci fosse un interesse in ballo perché lui lo scrive ho fatto delle cazzate cazzate che peraltro non arriva a scrivere o non sappiamo se effettivamente poi ci fosse un altro biglietto che è stato portato via qualcuno ci dice allora perché sta persona non l'ha detto subito a chiamare i soccorsi semplicemente perché ritornando a prima sta persona ha detto una volta che si è buttato dopo qua viene fuori tutti gli scheletri tutto l'ossario dell'armario perché stavo litigando con lui è meglio che muore questo a questo punto perché magari l'ha avuto pure quell'istinto di salvarlo a dire non fare questa cosa però lo possa avrebbe venuto fuori il tutto quindi ha detto ormai ha fatto questo i segreti vanno nella tomba con lui è stato non tanto c'è lo scenario che è anche plausibile non è stato tanto l'omicidio tra virgolette volontario ma un far sì che accada quella cosa lì perché ragazzi l'idea che io ti tengo sospeso no? perché se ti devo buttare ti butto non ti tengo sospeso con forza ti tengo sospeso per forza cos'è? perché ti chiedo di darmi la password a modi 007 di un film di spionaggio non sono propensa a pensare a queste cose no? le tempissiche sono diverse lo ricordiamo che nelle prime fasi quindi per i primi anni non si è parlato di colluttazioni non erano state fatte quelle valutazioni sul corpo quindi i bigliettini vengono buttati i bigliettini scusate i fazolettini vengono buttati prima quindi questa cosa poi della colluttazione delle ferite quindi lui sulla parte anteriore del corpo aveva queste ferite viene fatta nell'epoca della commissione parlamentare cioè prima nessuno si era espresso in merito a quelle evidenze a quelle foto i primi medici legali non scrivono neanche delle ferite che lui aveva in volto viene fatto dopo perché vedono le fotografie e quant'altro quindi quella valutazione non è stata fatta in più non c'è impronta no non sono stati fatti rilevi di tipo biologico se non il prelievo di cui fa i fazolettini nell'eccessino per lo più i paesi mancano analizzati quindi questo è un altro problema quindi poi immaginate poi perché la famiglia ovviamente spinge e non si può accontentare di un'archiviazione per suicidio perché se voi avete un medico due medici legali che vi dicono sentite magari della dinamica della caduta ne possiamo parlare ma che il fatto è su quei segni che lui aveva lì è indiscutibile che sono stati provocati da tutt'altro che la caduta cioè non sono compatibili con la caduta che ha fatto Davide quindi è logico che dopo non si mette l'anime in pace a dire allora come se li è fatti quei segni chi li ha fatti lui non ce li aveva prima durante la giornata non ce li aveva qualcuno li avrebbe quelli al viso li avrebbe visti senz'altro sì poi andate a pranzo col fratello qualche ora prima quindi erano insieme cinque o sei ore prima avrebbero dato questi segni era ora prima quindi e lì poi inizia l'ipotesi dei festini l'ipotesi dei festini rientra per quello no c'erano delle cose che valutate sul momento avrebbero dovuto portare a fare delle indagini e probabilmente l'ipotesi è non l'hanno fatto perché hanno voluto coprire la cosa per evitare insomma che venisse fuori un caos tanto lui comunque si è buttato da solo c'era qualcuno lì non è indispensabile che si venga a sapere che era presente perché lui si è buttato questa secondo me è la mia idea è chiaro che è un po' forte come immagine ripeto l'ho detto all'inizio e lo ripeto sull'operato dei magistrati è stata aperta un'inchiesta è stato indagato e non c'è stato nulla di fatto però ragazzi anche se i magistrati accorrono sulla scena del delitto i magistrati sono operatori del diritto le indagini sul luogo le fanno le fa la polizia scientifico comunque i carabinieri del ris chi è che accorre no il magistrato può guardare può andare diciamo può dare un'idea però si affida alle forze di polizia giudiziaria che sono sul luogo cioè il magistrato non è che è tenuto ad andare a guardare il segno sul polso e sapere che non può averlo fatto l'orologio non è tenuto a sapere una cosa del genere il magistrato è tenuto a sapere come si applicano le procedure e seguire supervisionare l'operato della polizia giudiziaria questo che vuol dire che se anche un magistrato viene e ti dice ok è un suicidio dobbiamo chiudere di là dovrebbe esserci pubblico dottore qui veramente c'è questa cosa cioè deve essere lui a dire al magistrato analizziamo questa cosa non c'è c'è poi un un addetto che adesso ripeto non ricordo se era il comandante dei carabiniani non mi ricordo l'hanno fatto vedere alle iene che dice no ma loro hanno spostato hanno fatto hanno detto sì sicuramente non trovi una ripresa verso le ore 9 poi ovviamente è stata fatta il sopralluogo diciamo quello vero a luna di notte quindi dopo 4 ore infatti no Ale salva il magistrato dovrebbe ha facoltà di non andare però quando ci sono delitti più afferrati il magistrato si reca sulla scena del crimine no però dico vero è che c'è questo timore reverenziale no che non è che vai a dire al pubblico ministero guardi stia attento che mi inquina la scena cioè non lo fai così però magari con i dovuti modi dici guardi forse è meglio che qui non lo tocchi che facciamo il rilievo no non è che ti dice come cavolo ti permetti cioè i ruoli sono ben distinti cioè il magistrato fa il concorso in magistratura fa la sua gavetta fa quanto è però non è che va a fare il corso dell'investigatore non va a fare nel master scienze forenzi o altro assolutamente per questo le indagini vengono fatte dalla pulizia giudiziaria il magistrato sta lì per verificare che effettivamente le cose vengano fatte nella maniera corretta cioè non nella maniera corretta sul luogo ma dal punto di vista procedurale quindi insomma che anche questo per il scendere a Guglielmo sì cioè vengono incaricati dalla procura anche nel caso di David sì avevano posto sotto sequestro la scena quindi poi quelli intervenuti lì erano ovviamente utilizzati dalla procura del pubblico ministero che dirigeva le indagini quelli loro sì assolutamente ma guardate capita molto spesso no cioè il pubblico ministero può arrivare ad un'archiviazione perché magari nella polizia giudiziaria noi ci siamo occupati di un caso di recente molto semplicemente non gli ha messo diciamo sotto il naso delle cose che invece doveva vedere cioè voi non potete immaginare il pubblico ministero legge le carte non è che si mette a visionare i video cioè un'indagine durerebbe dieci anni già dura così anche se fosse ci sono i reparti specializzati ognuno col suo le indagini telematiche la scientifico o altro loro fanno una relazione e il magistrato sulla base di quella relazione si fida cioè non è che si metta a controllare quello che hanno fatto no a meno che poi dall'altra parte chi diciamo obietta attraverso diciamo gli avvocati consulenti o quant'altro dice no non è così allora lì il magistrato torna e chiede questa cosa come l'avete fatta cioè quindi andare a dare la responsabilità ai magistrati delle indagini fatte male in quel momento sicuramente diciamo loro sono a capo e quello che vuoi ma se sul luogo non si è accorto non si sono accorti del segno sul polso più che altro dei lividi non è responsabilità del magistrato a meno che non veniva fuori qualcuno che diceva io l'ho detto ma ha detto lascia stare fatti i cazzi tuoi ma questo non è successo quindi è lo stato degli atti perché poi non si può fare un'accusa di magari tu vedi qualcosa non lo valuti lo vedi ma non lo prendi in considerazione ci può stare anche l'errore oppure come detto una scarsa cioè non dare lo giusto rilievo a un dato ci sta cioè tu non puoi dire tu hai fatto apposta non vederlo perché se io descrivo tutto come era il cadavere e quant'altro e poi non gli consegno e al massimo ti posso dire non è stato proprio dettagliato questo medico quindi può avere una critica dal punto di vista professionale perché non è stato attento a quel dettaglio però non puoi dire che l'abbia fatto apposta no allora Queen non è proprio così nel senso che il magistrato Waffle Red Carpet non è esattamente così cioè poi considerate che ci sono esempi che ne so quelli che si occupano di mafia quando succedono cose del genere escono immediatamente o con tanti altri reati il problema non è quello ripeto la sua presenza sul luogo sulla scena del diritto fa capire l'importanza di quanto accade non a caso il fatto che ne siano arrivati tre per molti sia stata una cosa sconvolgente no ma in realtà in una cittadina come Siena succede una cosa del genere quando diciamo c'è un'indagine in corso proprio su Monte dei Paschi che siano andati per verificare io non ci trovo nulla di strano se poi loro si ritrovano lì e ti dicono eh aveva scritto ma dotto aveva lasciato i bietti per faccio così perché quasi tutti i carabinieri sono sempre napoletani là in giro siciliani no dotto qua ci sono i testi che si è suicidato dotto ha parlato con Tizia ma ha detto che aveva mandato una cosa che ha detto domani si dice cioè se quelli poi gli dicono ci sono una serie di elementi quello dice vabbè ok abbiamo capito si è suicidato però ecco cioè non è che c'è dolo ecco gli elementi l'hanno portato a pensare quello e lo hanno fatto si fa così no c'è un problema sì ma non è colpa della magistratura ora io non è che voglio dire poi tra l'altro in questo momento insomma personale non a caso ripeto se delle mancanze ci sono state le posizioni sono state archiviate proprio perché secondo loro non c'era assolutamente dolo è vero assolutamente sì nel senso che c'è stata un'indagine che ha decretato che sia andata così può esserci qualcosa di diverso sotto per carità cioè noi questo non lo sappiamo è vero anche che se anche mai un magistrato X non stiamo parlando di David Rossi dicesse al comandante dei carabinieri fatti fatti tuoi dobbiamo muoverci qua e suicidio levati dalle palle probabilmente il comandante dei carabinieri non l'andrebbe mai a raccontare quindi se si verifica una cosa di questo genere state tranquilli che non lo veniamo mai a sapere perché insomma uno ci tiene a mantenere la sua cosa se potessero parlare però insomma ripeto spostare l'attenzione sull'eventuale depistaggio da parte dei magistrati è stato secondo me un errore gravissimo su quello che è stato sono stati gli esili delle indagini esatto secondo me è stato grave soprattutto buttarla in caccia con la politica in un momento in cui diciamo c'era tutta una situazione politica anche se comunque resta di divenire diciamo per concludere anche il tutto non è fermo lì perché vediamo adesso su questo nuovo filone di inchiesta su cosa andrà ad investigare diciamo un pochino più in dettaglio quali valutazioni infatti perché secondo me questa cosa dei segni di lotta colluttazione che lui aveva nella parte anteriore del corpo sono il punto di non ritorno e io là resto un attimino perché dico ok non è stato un omicidio nel senso stretto del termine che dopo magari lui si è lanciato però quella parte antecedente al suo lancio deve essere messa nel contesto non può essere oscurata perché se se c'è la certezza che quei semi sono dovuti a una lotta con chi ha lottato e perché poi se quella lotta ha innestato in lui ormai la decisione finale che secondo me aveva già maturato dal giorni perché preso dall'ansia preso tutto quello che volete si arriva poi all'inseguazione al suicidio almeno abbiamo un quadro differente anche se volevo rispondere un attimo a Wally metto il commento in sovraimpressione lo leggo no dai muore responsabile alle comunicazioni sul luogo di lavoro di una banca che attraverso uno scandalo finanziario e dopo 30 secondi atto volontario una barzelletta no nel senso lo scandalo finanziario non era una novità c'era una cosa che andava avanti da un po' e ripeto venivamo già da un'Italia travagliata da bancopoli no quindi non era tanto strano di contro c'era una persona che teneva molto alla sua immagine e che comunque aveva dato chiari segni di squilibrio squilibrio quindi pensare ad un suicidio in quel momento non era una cosa abnorme c'erano i biglietti in cui diceva che si voleva suicidare aveva detto che si sarebbe ammazzato ad altre persone aspetta in quei biglietti in più non c'è la parola atto volontario eh no 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 io dico all'inizio pensare a questo non è una cosa sbagliata se tu ripeto non ti mettono sotto il naso quello che c'è no perché ripeto lui tra l'altro aveva preso a farsi degli atti di autolesionismo cioè lui aveva confessato alla moglie qualche giorno prima che aveva iniziato a tagliarsi in più la moglie preoccupata aveva parlato con il fratello dicendo sta male quindi queste queste informazioni arrivano subito insieme al cadavere no quindi c'è una persona molto preoccupata di una situazione quando tutti dicevano ma stai tranquillo ma tu non sei manco indagato e i ragazzi magistrati lo sapevano che l'indagine non c'era verso di lui eh perché sarà anche secretata ma nel momento in cui succede il confronto c'è dico ma questo qua aveva problemi no? lo sapevano che i problemi lui non ce li avesse in quel momento perché effettivamente lui nell'indagine non c'era hai il profilo di uno che si faceva atti di autolesionismo una moglie preoccupata che appena non lo vede rientrare dopo cinque minuti comincia a chiamare il fratello e tutti quanti per sapere cosa era successo lui che l'aveva annunciato che si sarebbe ammazzato perché lui in galera non ci voleva finire si doveva ammazzare quindi sul momento pensare che si tratti di un suicidio io non sono d'accordo sul fatto che era strano per me era assolutamente normale poi il fatto che possa essere un suicidio non preclude il fatto l'abbiamo detto un sacco di volte che l'indagine debba essere fatta a 360 gradi e che quindi quando vedi quel segno dell'orologio e una caduta strana o comunque delle situazioni il sangue nelle cose che sembrano proprio schizzi cioè un'attenzione in più a questa cosa si doveva dare anche solo anche solo per capire se effettivamente lui era in preda ai deliri o effettivamente c'era qualcosa di grave che lui avesse fatto e che coinvolgeva altri e siccome stiamo parlando di una banca non di un'azienda privata che si occupa di altro se permettete capire che qual era il guaio che lui avesse combinato qualora fosse vero meritava era diciamo meritevole l'indagine no quindi l'indagine andava fatta però che sul momento si sia pensato che effettivamente ci fosse ci fossero tutti i criteri per pensare che era si trattasse di un suicidio sarebbe assolutamente diciamo disonesto da parte mia dire una cosa che non è anche perché ci fosse stata la valutazione ultima sulle ferite anteriori sulla parte del corpo io avrei pensato benissimo che si fosse suicidato tranquillamente perché presupposti c'erano tutti quindi non vuol dire nulla non manifestare ansia tranquillità oppure progettare dopo venendo a prendere le polpette piuttosto che dopo torna a casa non vuol dire nulla perché comunque la maggior parte delle persone si uccidano non è che te lo vanno a dire dieci minuti prima guarda mi sto però andando a ammazzare quindi ci sta è ovvio che cercano di nascondere il più possibile quello che hanno in testa quindi se non avessimo avuto quel dato ultimo adesso io mi chiedo ma come se le fatte allora quei segni allora se altrimenti ad oggi gli avrei detto che lui aveva tutto il profilo e tutti gli indicatori per togliersi la vita e in quello stato lì ce le avevano magari se le era anche messi lui in testa si era immaginato tutto perché così sarà stato perché alla fine le indagini si sono state non hanno portato a nulla quindi era tutto frutto di un suo diciamo in quel momento attacco compulsivo ossessivo persecutorio che gli portava a vedere una visione delle robe cioè uno che poi si sente intercettato scrive i bigliettini per non parlare poi effettivamente dobbiamo fare quest'altro riscontro lui immaginava di essere intercettato no? quindi non intraprendeva a questo punto neanche delle conversazioni scomode non so se mi spiego quindi se fossero se ci fossero state le persone coinvolte in certe cose lui secondo me non è che ne parlava così apertamente se pensava di essere intercettato ovunque non so se è chiaro quello che sto dicendo è una frase che ha detto al fratello che a me è rimasta molto impresa che è mi sono fidato ad un amico che praticamente mi ha pregato insomma adesso in soltoni questa è molto emblematica come frase che non è che giusti vi spiega nell'omicidio e nel suicidio perché però in quel contesto è abbastanza emblematica era arrivato ragazzi a parlare tramite biglietti con la moglie e con la figlia della con sua figlia chiamavano la figlia ormai cioè lui non parlava a casa perché aveva paura di essere intercettato e per fare riferimento a questa situazione triste cioè lui la sera prima o due sere prime comunicava con la moglie scrivendo sui fogli di carta ed eliminando i fogli di carta quindi i livelli di delirio a torto ragione questo non lo sappiamo insomma perché magari lui qualcosa l'aveva fatto e aveva veramente paura che fosse intercettato però c'erano però mi volevo ricollegare a quello che diceva Marzia guarda potremmo diciamo qualcuno dice che ne fa una questione di economia no? però secondo me quello che andiamo a risparmiare facendo un'autopsia su un presunto suicidio no? se poi diciamo risparmiamo i soldi di un'autopsia e poi ne spendiamo il triplo in aperture riaperture istanze indagini e controindagini e risumazioni di cadaveri che costano anche di più dopo due tre anni e tanto vale diciamolo no? questa dovrebbe essere la 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 strada da percorrere no? come succede in altri paesi muore qualcuno si fa l'autopsia poi io provere muore qualcuno si fa l'autopsia perché noi stiamo parlando dei suicidi che la gente non li accetta vogliamo parlare di quanti finti incidenti stradali che uno è in bergamini per carità ma ne sappiamo solo uno no? prima dell'omicidio stradale la gente si faceva fuori con gli incidenti per strada senza che nessuno dicesse biz quindi sapete che c'è se muore qualcuno il minimo che dovremmo fare è fare un'autopsia su questo ragazzi solo che il problema è che a proposito dell'autopsia hanno disposto un'autopsia psicologica non credo con un'autopsia classica no assolutamente ma non c'era bisogno perché se gli avessero fatto un'autopsia psicologica era la zappa sui piedi no? la psicologica avrebbe stabilito che aveva il profilo perfetto per suicidare se per esempio io la faccio ad occhium con quegli elementi che ho raccolto agli indicatori dell'autopsia psicologica che mi fanno dire se è suicidato al cento per cento quei segni magari se li è fatti in una dinamica sul davanzale lì sulla finestra che io non riesco neanche ad immaginare a quel punto perché comunque è tutto strano però l'autopsia psicologica ce l'ha c'aveva tutto se avessi dovuto fare a scatola chiusa solo vedendo i comportamenti che poi si fa proprio da questo dalle descrizioni che fanno degli altri del soggetto degli iscritti quindi conversazioni mail messaggi e quant'altro analizzando quegli elementi lì io avrei concluso che aveva il profilo del del perfetto diciamo soggetto che aveva deciso di compiere quell'atto lì c'ha tutto tutto Rossella però non sappiamo effettivamente se lui fosse un soggetto puntiglioso no? che è maniaco di qualcosa quindi poi lo scompenso dato dalla paura di finire così gli ha fatto esplodere insomma questo questo delirio no? è vero che non ti scopri psicotico da un giorno all'altro però c'è gente che ci convive con le psicosi e agli altri sembrano anche paturnie accettabilissime no? poi un giorno in seguito a un trauma o altro si scatenano e diventano insostenibili qualcosa di forte perché comunque pensiamo anche il ruolo che lui ricopriva perché lui era il capo dell'addetta alla comunicazione lui per arrivare dove era un perfezionista esatto era un frontman di ampia portata Monte dei Paschi di Siena il comune di Siena e tutta una serie di storia e che poi là c'erano anche delle campagne particolari per portare su l'azienda quindi anche campagne calcistiche di basket mi ricordo addirittura che Mussari aveva fatto un brand tipo di moda con le maglie di Monte dei Paschi di Siena tutta una serie di cose una persona che ha a che fare ad ampio raggio con tutte figure politiche di spicco deve avere i nervi sempre saldi una gestione della pressione dello stress altissima perché ora guardate la detta la comunicazione di una cosa del genere non è una robetta che si fa così quindi aveva un carattere forte una persona come David per arrivare a quel punto di portarsi che abbia avuto un'amplificazione una percezione diversa di quello che era successo quindi effettivamente ci potrebbe stare anche il fatto che lui abbia potuto tra virgolette subire qualche parolina o pensare che i segreti che di cui era conoscenza potevano poi saltare fuori quindi questo l'ha messo in ansia vuoi la ripercussione di tipo legale lavorativa come abbiamo detto vuoi la vergogna per essere a conoscenza di cose strane anche se io lo dico onestamente sta roba dei festini non è che ci credo molto allora però Rossella bisogna partire da un presupposto intanto non parliamo per forza di patologie psichiatriche ci sono anche disturbi della personalità che comunque possono sfociare insomma diciamo in seguito a un trauma basti pensare a una persona che vive un forte lutto e poi comincia ad avere gli incubi a sentire a non dormire la notte a pensare che qualcuno ti segua cioè sono traumi che ti possono comunque scompensare e sono cose che si possono anche risolvere però c'è un dato no? una cosa è pensare che lui si sia inventato del tutto no? e che quindi la sua preoccupazione fosse del tutto inventata e allora lì parliamo veramente di una patologia bella e buona dici vabbè questo è proprio dall'altra parte che secondo me è la versione più plausibile è che di fondo c'era qualcosa che lo preoccupasse no? cioè e che quindi la sua crescente preoccupazione era legata al fatto che lui non vivesse bene che ci fosse effettivamente la paura che venisse fuori qualcosa che lo avrebbe rovinato del tutto e lì non si tratta di una patologia psichiatrica lì si tratta di avere un crescendo perché lì hai paura veramente che tutto finisca e non non ce la fai più a sopportare questo questo peso quindi quello è non stiamo parlando di 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 uno che è così a un certo punto diventa pazzo e si è inventato no? e si è cominciato a preoccupare di una cosa che non esiste io quello non lo credo no 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 psicotico vabbè entra sia nel nei disturbi della della personalità sia in ambito psichiatrico non per forza diciamo ci sono persone che non hanno sono tranquillamente centrate però vivono di psicosi che ne so chi per i ragni chi per ognuno ha le sue no? non per forza non davamo quell'accezione però è giusto che che lo hai evidenziato perché lo abbiamo chiarito ulteriormente io credo che ripeto soprattutto anche in virtù di questo no? andava indagata la circostanza che ha portato quest'uomo a un possibile suicidio se di suicidio vogliamo parlare si vuole ne abbiamo parlato nelle telecamere ah ok Rossella ok stavano uscendo delle persone insomma vediamo Monica molto lucida Monica pensate solo ai tanti suicidi di tangentopoli anche solo per un timore di avviso di garanzia dentro quelle tempeste ne è tutto ingantito assolutamente voi considerate che noi ci siamo trovati a gestire un processo di uno che tempo fa si è trovato diciamo indagato per una questione diciamo mi pare che si trattasse di peculato perché lavorava per un ufficio pubblico appena è arrivata la guardia di finanza giù che manco cercava lui questo ha aperto la finestra e si è buttato dalla finestra ed è morto e la guardia di finanza non è arrivata a cercare lui e stiamo parlando non del politico o della persona in vista di un semplice diciamo impiegato comunale nemmeno comunale di un'azienda comunque partecipata del comune se non mi sbaglio che però era una persona pulita che pensava di avere costruito la sua famiglia perfetta a quella appena ha visto la guardia di finanza dice ok sono venuti per me e non erano andati via per lui ha aperto la finestra e si è lanciato cioè mamma mia è andato sul giornale credo che sia stato due anni fa sì però ragazzi assolutamente questo problema si dovrebbe risolvere proprio muore qualcuno autopsia quindi sì Stefania non hai torto anche in questo modo paranoide non sappiamo è vero uno dice non lo è mai stato non sarà il caso suo però a volte l'abuso di sostanze può portare anche a questo di questo non sa già era morto ci mancava pure andare a indagare sul tuo privato in questo quindi anche Giovanna Boda funzionale del ministero dell'istruzione si è buttata di sotto e si è salvata per miracolo sì assolutamente per alcuni la vergogna è assolutamente diciamo impropria io ad esempio quando la politica e i giornali strumentalizzano i suicidi degli imprenditori attenaiati dalle tasse che a un certo punto si suicidano per carità tutto quello che vogliamo e quelli che non si suicidano non è che tu ti suicidi perché hai perso l'azienda e perché lo Stato non ti aiuta e prevede le tasse ti suicidi perché non reggi il peso della del dover cambiare vita per carità è meno grave no però dare colpa allo Stato insomma che potrà avere le sue colpe ma c'è una una ampia fetta di persone che nonostante siano state veramente prese buttate rivoltate come un calzino dall'agenzia dall'entrata piuttosto che altro perdono qualunque cosa ma piuttosto che ammazzarsi si reinventano e vanno anche a zappare la terra dico nulla di di che non è che giudico quelli che fanno una scelta differente ci mancherebbe però non è il debito che ti fa ammazzare è un altro secondo me l'istinto che ti porta a fare una scelta del genere una persona così strutturata con anni di formazione nel momento in cui vede crollare certezze migliori il proprio stato sarebbe in grado di far di tutto allora ragazzi sarebbe finito cioè al di là della condanna una volta che era indagato è finita cioè tu ti ritrovi sei una persona potente da un certo punto di vista rispettato voluto bene e poi diventi lo scarto della società in quell'ambiente lì se sei forse un politico forte ma devi essere proprio forte perché di politici rovinati per degli scandali ce ne abbiamo avuti cioè non è che non ne abbiamo avuti sono quelli grossi che emergono ma quelli diciamo piccoli trovano all'inizio la solidarietà dei quattro che però non si fa però poi dopo un po' non dimenticatevi il politico che andava a trans piuttosto che altro ne avete più visti cioè poi a un certo punto finiscono diciamo nel dimenticatoio e per alcuni appunto la propria posizione sociale è ancora più importante della della posizione economica Guglielmo dice vorrei chiedervi per quale motivo Piccini ex sindaco mette relazioni fuori onda della classe dirigente sanese della curia con la morte di Rossi lo sa lui anche lui ha processo però della curia non lo so c'era stato anche il discorso dello York qualcosa però comunque sono dinamiche veramente complesse chi non sappiamo perché magari lui essendo l'ex sindaco qualcosa sa lui qualcosa più sta avranno tempo di raccontarlo anche perché anche perché si devono difendere eh sì perché poi per la morte di Rossi cioè per non per la morte di Rossi però l'unico processo che finora si è celebrato è contro la moglie e contro il giornalista eh vecchi del fatto quotidiano che ha scritto due libri sulla ricetta hanno avuto una condanna no no sono stati assolti anzi il polizio ha detto questo processo non stai a da fa quel senso era questo però adesso comincia il processo contro Antonino Monteleone il suo autore e l'ex sindaco e su quello poi ci riaggiorneremo quindi almeno adesso avete il briefing più o meno completo del caso o se almeno avete la linea guida poi andiamo a vedere anche noi come andrà a finire tutta la vicenda anche se è un disastro qua perché è passato veramente troppo tempo cioè già secondo me sotto sotto si riusciva a capire poco e niente però già ci poteva essere qualche elemento magari potevano fare delle indagini proprio diverse vecchio stampo cioè interrogatori un attimino più serrati andare ad analizzare le tracce si De Pao è quello che ha ammazzato le prostitute a Roma dovrebbe essere Gian Davide De Pao comunque ragazzi la verità è che purtroppo bisogna ammettere con molto candore lo possiamo fare noi che siamo esterni non lo farà mai la famiglia e qui c'è un topolino che scala la montagna cioè anche ammesso che ci sia stato un terzo che ci sia stato un intrigo sotto o magari non un intrigo come dicevamo poco fa ma la presenza di era una cosa troppo grande che coinvolgeva Monte dei Paschi e quindi insomma è diventata sempre più complicata e quindi io francamente se di dubbi che si aggiunga una conclusione cioè diversa da quella che abbiamo già saputo e dispiace perché la moglie la figlia fino all'altro giorno credo che si sia sdraiata per strada che ricorreva al 6 marzo la morte della poi c'è anche la mamma allora hanno lottato veramente tanto veramente si in prima linea per sapere per lo meno cioè perché e per e come solo che non poi più basta il tempo c'è anche il problema che è impossibile anche trovare qualcosa sì Stefania sono considerazioni che facciamo ci tengo a dirlo perché noi non lo conosciamo quindi poi non lo sappiamo effettivamente cosa è successo l'immagine che hanno raccontato di Davide Rossi era di una persona mite di una brava persona sotto ogni profilo non è detto che anche in seguito a un forte stress magari uno possa fare diciamo abuso di sostanze che non per forza devono essere eccitanti ma anche calmanti insomma noi non lo sappiamo però sicuramente insomma questa persona non stava bene ripeto questo non vuol dire una persona può non stare bene ma comunque entrare in contatto con qualcuno che ti ammazzi però insomma è una vicenda molto triste io sto nel mezzo nel senso che ci sono delle cose che mi fanno pensare che effettivamente qualcosa di strano c'è che lui non fosse da solo o altro però se vi devo dire che non c'aveva il profilo di uno che si poteva suicidare non me la sento con il tutto rispetto ora voi direte ma tu pensi sempre che si siano suicidati tutti magari non lo dite voi ma me lo verranno a scrivere nei commenti su youtube ragazzi diciamo che ormai per deformazione professionale loro do un conto io dall'altro perché quando vado ad analizzare i fatti lo vado a fare pensando a a cosa si può sostenere in giudizio mi calo ormai nella parte della difesa e dico ok questa cosa la puoi dimostrare e allora è inutile che ne parliamo e quindi il mio ragionamento va sotto quel profilo ormai la deformazione è quella lì non è che credo sempre che si tratti di suicidio voi dite il suicidio va dimostrato ok per me va dimostrato il reato quindi se non ci sono gli elementi per dimostrarlo allora devo andare a concordare che possa essere un suicidio quindi questo è direi che per questa sera abbiamo dato vediamo un bel focus sul caso poi ci ritorneremo sicuramente perché vedremo gli aggiornamenti andremo un attimino più in dettaglio a scavare quello che è stato però sono contento per quanto si possa essere contento in questi casi di avervi portato e condiviso qualcosa che avevamo diciamo messo lì da tempo noi ci siamo messi vi dico la verità diciamo ultimamente a rivedere un attimino il caso perché per sommi capi lo conoscevamo poi il dettaglio di tanti personaggi di tante storie si perdono negli anni perché sono passati undici anni quindi per sommi capi lo conoscevamo poi riguardare la vicenda ti lascia degli ispiragli anche io come Monica avrò ancora da formare la mia idea quello che mi lascia per presso ve l'ho detto senza ripetermi ulteriormente sono quei segni vedremo come verranno valutati o rivalutati in futuro quindi per ora è tutto va bene ragazzi allora ci aggiorniamo vediamo magari ci vediamo giovedì non ve lo diamo per certo Monica ascolta sì lasciatemi togliere un sassolino stiamo qui l'ultimo sassolino grazie Guilielmo siccome dai che domani vedi Queen non mi ricordavo qual era il giorno allora domani siamo siamo a Pavia altre vette altissime complimenti per il coraggio grazie a voi ragazzi sempre per per tutto vette altissime in che senso Monica a questo punto ce lo dici è bella curiosità la settimana prima buona Pasqua tanti auguri a tutti e la settimana prossima non ci vedremo il giorno di Pasquetta adesso valuteremo quando no? si è lanciata in strali contro i magistrati si è lanciata in strali contro i magistrati dicendo per tre ore che Firpo era consulente del PM ha parlato della 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 Pifferi si Firpo era il consulente del PM vabbè beh se lo dice lei non sappiamo neanche la differenza tra consulente e perito ma è proprio il consulente del PM si 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 da rifesa proprio il PM che non gliela voleva fare da si vola si ma si vola sul set tre ore cioè uno dice fa l'errore magari vabbè se nessuno te lo fa notare vai avanti una roba popolista incredibile ma quella ormai è l'istillo contro i magistrati diciamo che grazie una sorella come quella della della Pifferi aveva fatto la video ragazzi si noi abbiamo parlato della Pifferi abbiamo letto un po' tanto diciamo di cose e si creava vergogna le solite sceneggiate sue è inutile noi quando una cosa non la sappiamo chiediamo a chi la sa avete visto ragazzi della Pifferi potremmo parlare tanto però lascia il tempo che trova credo che la Pifferi sarà un processo la Pifferi prenderà l'ergastolo adesso in primo grado forse poi in secondo grado lontano dal clamore mediatico se se la smettono magari potrebbero potrebbe avere un uno sconto insomma potrebbe finire meglio un po' meglio però mi auguro di no credo che il tagliando diciamo dell'ergastolo senza passare dal via ce l'abbia in mano che mi piace quindi e credo che sia giusto ora al di là di tutti i problemi di tutto se cominciamo a giustificare anche quelli che sono minorati mentali se fanno cose del genere insomma i cavoli suoi li capiva non ci arriviamo più i cavoli suoi i conti suoi se li sapeva fare era furba accattona approfittatrice le cose sue le capiva quindi quella capisce tutto merita l'ergastolo perché le conversazioni che aveva con quegli uomini le schifezze che aveva anche ha provato di far fare sulla figlia la dicono lunga su questo personaggio quindi per me merita l'ergastolo perché era consapevole di tutto quello che stava facendo poi che sia una stupida nel senso generico del termine non è più un dubbio però che lei capisse effettivamente che cosa sta accadendo io non ho dubbi quindi merita l'ergastolo sì sulla bimba ci sono dei messaggi per chi se l'è dimenticato ve lo ricordo io dove c'era uno schifoso che voleva dormire nudo con lei la bambina al centro queste schifezze qua che quindi non c'è bisogno di dirlo diversamente aveva anche degli altri interessi e degli altri tipi di mire e lei acconsentiva il tutto quindi questa persona che definirla così è già un complimento da parte mia lo merita l'ergastolo non mi fa pena per nulla lei capiva tutto si faceva i conti economici guardava il proprio tornaconto sapeva che la bambina poteva morire e non gliene è fregata una mazza quindi io spero che sia il gasolo a moda ora è per sempre anche se inventano il quinto grado di giudizio da qua a qua non finisce la storia e questa è la mia sentenza e con questa vi auguro buonanotte e buonaparte vedete come si è risolta io non partecipo alle dirette della Pifri non vengo più perché mi nervosisco quando sento già quando la vedo così a me non mi fa pietà mi fa venire proprio un nervoso di quelli là inspiegabili soprattutto quando poi risento quelle cose che ha detto e che ha scritto a quelli là dico ma guarda questa cesta dico guarda questa qui scusate il termine mi è uscito dal cuore avete sentito i messaggi che mandava a quelli lì meno male che vuole andare a dormire che raccontava stifato io quando poi sono tra me e me tipo essendo in casa da solo nessuno mi sente così le batteggio tipo le persone come la l'Alessia Pifferi e quindi diciamo lo ho graziato anche con quest'altro termine quindi veramente hai anche cresciata stasera con no l'ho cresciata ve lo giuro si vede che mi parte l'embro vedete tutte le puntate dove parliamo di questa e non mi controllo più sbotto come a me quando mi prembolo per la Resinovic no raga è una cosa insostenibile la Pifferi sai perché perché vedo proprio che ci sta pigliando in giro da come era all'inizio a come sta diventando tutta sommessa pure con quella voce oh ma ti apposto sore ma che ti pensi che siamo deficienti qua me la ricordo all'inizio mi ricordo anche le dichiarazioni che ha fatto ma questa è tutta una strategia ma no ma tra l'altro c'era anche la cosa che ha pulito la bambina l'ha cambiata la bambina aveva vestiti puliti cioè ragazzi voleva pure minimizzare quello che era successo no questa è furba anche i consigli e le strategie ovviamente difensive che hanno cercato di farle adottare però dopo questa le ha fatto sue c'ha messo una calcolatrice infame e basta chiudiamo se no dopo facciamo la seconda diretta fino alle 2 sulla Pifferi no ragazzi vediamo Lucia quindi giovedì niente direttina non ci sono capo non c'hai a te che facciamo ci riuniamo vediamo ragazzi vi facciamo sapere vi facciamo sapere però penso che visto che lunedì non ci vediamo magari giovedì vediamo sì qualcosina inventiamo via via buonanotte a tutti ne abbiamo parlato Dani recupera la live su youtube che ne abbiamo parlato perché non sono tante novità cioè ne abbiamo parlato facciamo ride a Samuel oddio l'altro giorno mi hai messo in difficoltà mo ci provo aspetta lo facciamo Samael aspetta mi raccomando non dite parolacce perché non so nel ride stiamo ancora in diretto per un po' che poi non so dove sono gestore streaming ce la faccio esegui il ride verso un canale salutatelo facciamo il ride a Samuel Samel è live è lui? no aspetta mi ti muove lo stai facendo tu? è Samel the freak sì se quello faccio sì fallo tu se lo trovi perché io sono un po' impedita idem è Samael vero l'ho cercato così ma non lo trovo ma lo vedete online Samel the freak sì aspetta devo cercare solo il tasso per andare ride lo vedi da gestione streaming come si vede che sia prima c'è il tastino allora no il cucciolo non si è visto stasera perché sta sul mio letto sta dormendo lasciatelo stare che oggi ho portato a correre qua l'ho trovato io ok hai fatto vai avviate il ride quindi non scappare intanto buonanotte a tutti quindi buonanotte ragazzi quindi vado a vedere anche in attimi nel canale di Samel ragazzi buonanotte e ci aggiorniamo per giovedì ciao 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 Ciao!